No, 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 no. a guardare il testo e il suono che non si sente, che non rimane il testo, però se sta contenti, sta tormenti, non lo so, ma che io lo so trapponendo, non lo so, ma che non mi sto vivendo perciò, facci dentro, come fino a scaricare sempre, a sole del momento è solo amore, sta amore, stai gare, quando la gente andava avanti lo sapete, se la gente vorrete sapete quello che tenete, se la gente andava avanti, facci dentro di chi siete! Se la gente andava avanti lo sapete, se la gente vorrete sapete quello che tenete, quando la gente andava avanti, facci dentro di chi siete! A me è un bellissimo, una testo alle persone che ha detto, e io vorrei un periclu! Grazie a tutti. Grazie a tutti.